in the country nei paesi dove presenti appetito le vendite sono costante crescita di anno in anno quindi vuol dire che i risultati ci sono quindi vuol dire che sempre più consumatori prendono il prodotto e lo consumano e lo riacquistano e sempre più medici prescrivono il prodotto un po' di riacchino